E' notte, si sveglia il protettore, il protettore decide di proteggere, si addormenta il protettore, si sveglia il veggente, il veggente decide di guardare la carta di... Si addormenta il veggente e si svegliano i lupi, i lupi decidono di uccidere, gli addormentano i lupi, è giorno e stanotte non è stato versato del sangue. Grazie. Grazie. Grazie.